Torna a Napoli il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per la presentazione della nuova sede dell'Istituto Teleton di Genetica e Medicina TGEM che dalla prossima primavera troverà posto nell'ex sede dell'Olivetti nell'area Flegrea. Dedicata alla memoria di Susanna Agnelli, storica Presidente di Teleton dal 90 fino alla scomparsa nel 2009, la nuova struttura è stata presentata oggi all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli con il Presidente della Fondazione Teleton Luca Di Montezemolo. Un centro di ricerca di valore mondiale con giovani ricercatori italiani e stranieri, alcuni giovani italiani che torneranno dall'estero e che sta portando grazie al merito, alle competenze e alle capacità dei ricercatori alle prime terapie e questo è un fatto fondamentale per dare risposta alle speranze di tante famiglie e questa è la missione di Teleton che da vent'anni da quest'idea di Susanna Agnelli a cui dedichiamo oggi questo centro ha portato a mettere insieme eccellenze nel campo della ricerca per arrivare alle terapie, quindi a dare risposta alle speranze di tante famiglie. Nello storico edificio Olivetti, progettato da Luigi Cosenza negli anni 60, il centro d'eccellenza campano per la ricerca scientifica potrà contare su tre piani, quattro grandi laboratori destinati ad oltre 200 ricercatori italiani e stranieri per un'area complessiva di oltre 5.000 metri quadrati. L'ampliamento e la ristrutturazione della sede è stato possibile anche grazie a un investimento di circa 10 milioni di euro provenienti da fondi europei. Il paese deve investire in ricerca, in formazione, in nuove tecnologie e il mezzogiorno parte anche da qui, non solo dalle sue tradizioni, dalla sua cultura, dal turismo ma anche dall'industria, dalle nuove tecnologie, del resto Napoli e la sua area metropolitana, qua stiamo a Pozzuoli, è ricca di aziende che sono all'avanguardia sull'innovazione, sull'hitec, sulla ricerca e su quello bisogna investire. È bene che oggi ancora una volta il Presidente della Repubblica venga nella nostra città e nella nostra area metropolitana, una presenza che molto spesso sta caratterizzando questo territorio, un segnale di forte attenzione su quello che sta accadendo a Napoli e province. La visita a Napoli del Capo dello Stato all'insegna della ricerca e della cultura, elementi di punta del nostro territorio, prosegue a Palazzo Reale con un convegno sui beni culturali e terzo settore.